Ma io sposo perfettamente quello che ha detto il Ministero della Salute israeliano, sa che la gente ha una onestà intellettuale assoluta, che vaccinare non serve più tanto. Hanno iniziato la terza dose perché non sapevano che fare, ma non perché credono che il vaccino possa fare qualcosa. E questo per due motivi. Non ho capito, che vuol dire? Non è detto che la terza dose ci renda ulteriormente immuni? No, la terza dose ci aumenta la quantità di anticorpi, e questo è innegabile, contro un virus che in pratica non c'è più. In pratica i nostri vaccini, quelli che usiamo essenzialmente in occidente, sono vaccini tarati soltanto per eccitare anticorpi contro una proteina, la proteina S, la spike, che è una piccola proteina che muta continuamente. Le mutazioni che abbiamo sentito, a cosa tengono? Alla proteina spike. Sono queste che si modifiano continuamente. Chi per esempio fa un vaccino tradizionale, perché questi non sono vaccini tradizionali, chi fa un vaccino tradizionale come sono gli indiani oppure anche i cinesi, hanno comunque una difesa contro tutte le proteine, non soltanto con questa piccolina proteina che muta continuamente. Riaspiazzano. Sì, no, chiedo scusa. No, no, perché è giusto vaccinarsi, è per l'amor di Dio. Io sono... Sì, sì, ma sta entrando nel diritto di una questione... Vaccinarsi è qualcosa che funziona, fare una terza dose contro la cosa che adesso è mutato, ma certo non lo dico io, a parte che è di tutta evidenza, perché la proteina spikes è quella che cambia. Scusi, Giorlandino, quindi lei è perplesso su una terza dose, ma come risolverebbe il problema che il virus continua a circolare allora? Io quello non ho capito. Tra l'altro continua a circolare un virus e noi col vaccino combattiamo poco, non lo dico io, c'è tutta la letteratura attuale, addirittura la maggior parte dei lavori sono ancora in pre-print, perché sono usciti, stanno uscendo adesso, che dicono che purtroppo questo vaccino, questi vaccini di nostri, questa proteina spikes, oddio, qualcosetta fanno, ma non ci garantiscono niente. Dottore, mi perdono se la interrompo, dottore.